buongiorno io sono albi e benvenuti a questa nuova puntata del professor albi nella quale avete subito notato immagino che la qualità video è un attimino strana è forse il video un attimino troppo chiaro ecco prima di iniziare ad analizzare la partita dare magari qualche consiglio qualche tattica qualche qualche cosa riguardante il gioco ecco da un attimino un consiglio riguardante il video a qui tanti commentatori youtuber coloro che a cui piace fare video in generale o catturare comunque dei gameplay per un motivo per l'altro di utilizzare questo mio consiglio è di utilizzare una color correction ogni tanto perché guardate com'è ora il colore e guardate come è ora la color correction è una feature di quasi tutti i programmi di editing non so da sony vegas adobe after effect insomma tutti quei programmi che generalmente li youtuber o comunque chi fa video utilizzano per montare modificare editare i propri video sono presenti anche diverse guide su youtube per ogni programma e quindi vi consiglio se avete il problema che i vostri gameplay magari registrati con il pvr risultano un attimino troppo chiari forse dipende dal monitor non so sinceramente è una cosa che capita più spesso su console che su pc beh vi consiglio di utilizzare la color correction perché sennò davvero inizia anche a fare male agli occhi vedere un gameplay troppo chiaro troppo scuro comunque sia la smetto di dare lezioni di grafica anche perché non sono certamente la persona più qualificata a farlo vista le mie scarse abilità di editor e focalizziamoci sul gameplay il gameplay è offerto da milano hd il suo vecchio canale ora un nuovo canale che si chiama io form e sarà sicuramente nella descrizione del video dunque questa partita è un dominio un dominio giocato con lo scalelle che a mio parere è il migliore fucile d'assalto di questo gioco ma in realtà tra i fucile d'assalto a mio parere in questo gioco c'è un discreto equilibrio anche se qualcuno è leggermente superiore agli altri a mio parere comunque come vedete sta utilizzando le ricompense assalto e quindi il predator l'overwatch che oh mio dio come come si può tradurre overwatch in italiano non voglio immaginarmi come i traduttori lo abbiano tradotto male e il payload quindi sta utilizzando hardline cioè inflessibile è un setup abbastanza buono secondo me perché consente sia di utilizzare le ricompense d'assalto molto ambito soprattutto in modalità come dominio che finiscono per diventare delle specie di team that match come vedremo appunto e allo stesso tempo permette di essere sempre mobili perché comunque le ricompense uccisioni che utilizza sono delle ricompense a parte il predator che non sono guidate da lui ma sono guidate automaticamente dal computer quindi può sia fare uccisioni con le ricompense uccisioni che continuare ad andare in giro ed uccidere con il suo scarelle silenziato ora io mi ero ripromesso di non utilizzare dei gameplay con le ricompense assalto per la serie del professor albi perché quando si vede una persona con un reaper o con una c130 meno male cosa c'è da commentare è più o meno sempre uguale mentre invece questo gameplay appunto fa eccezione perché le ricompense sono tutte ricompense non guidate dal giocatore ma guidate automaticamente dal computer qua il nostro giocatore cattura la bandiera e purtroppo non penso non mi pare che lo vedremo ancora catturare altre bandiere durante la partita sarà fonte delle mie più aspre critiche perché ora come ora in queste puntate ho sempre elogiato bene o male i giocatori ho dato magari qualche consiglio analizzato le loro tattiche questa volta però mi sento mi sento di essere cattivo e spero che il giocatore qua che ringrazia davvero del gameplay non se la prenda male ma cercherò di essere un professore di quelli rompipalle perché sapete quanto tengo gli obiettivi in questo momento per esempio potrebbe benissimo cercare di prendere c cercare di prendere la seconda bandiera che potrebbe aiutare la sua squadra a vincere ma invece sceglie di non farlo sceglie di non esporsi e di continuare ad uccidere nemici con la sua arma silenziata certo sicuramente andare dietro lo spawn del nemico per iniziare a uccidere con un'arma silenziata mentre il nemico non lo può individuare e fare così un sacco decisioni è un'ottima tattica però come vedete il punteggio pian pianino con il nemico che possiede due bandiere la sua squadra che ne possiede solamente una sta sempre più allargandosi nella differenza di punti c'è da dire comunque che se riuscisse a mettere sempre un bell'overwatch o un payload in volo probabilmente potrebbe aiutare la sua squadra tanto quanto catturando le bandiere perché comunque il nemico che muore è un nemico che non cattura la bandiera o che lascia una bandiera scoperta per essere catturata dai propri compagni soltanto che a quanto pare non sarà esattamente così nella partita come avrete modo di rivedere uno degli errori più frequenti che fanno perdere una squadra in una partita di dominio è quello del pensare che saranno sempre i propri compagni a catturare la bandiera io li copro loro la cattura ma quando tutti pensano a questo modo quando tutti pensano tanto ci sarà qualcuno che lo farà al posto mio io mi dedico solamente ad uccidere i nemici beh diciamo che si può addirittura finire con una squadra che annienta l'altra in termini di uccisioni morti ma alla fine perde per quanto riguarda il punteggio delle bandiere di dominio ecco e da un certo punto non si può nemmeno biasimare perché non lo so pensate a quando voi entrate in una partita di dominio pensando bene adesso gioco gli obiettivi e vi ritrovate assieme ad una squadra che non se li caga minimamente di striscio una squadra che se ne frega altamente delle bandiere voi siete sempre voi a cercare di prendere la bandiera e a morire come dei pierla perché ovviamente quando iniziate a prendere una bandiera il nemico sa automaticamente dove è la vostra posizione vedere la bandiera lampeggiare dice bene là c'è un pollo che sta cercando di prendere un obiettivo ci tira una bella stordente e vi uccide senza che voi possiate fare niente lo so lo so tante belle parole ma in tutto questo voi avete pensato come cavolo hanno fatto quei tre a non ammazzarlo beh la risposta è sempre 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 la stessa è ovvio quando c'è una buona partita c'è un giocatore molto bravo ma ci sono anche una squadra come vedete di polli che sembra non avere gli occhi è normale è normale ogni volta che si fa un grandissimo punteggione dall'altra parte c'è una squadra incapace è semplicissimo perché se i giocatori dall'altra parte fossero dei giocatori in gamba tanto quanto voi o tanto quanto chi gioca la partita finirebbe in un sostanziale pareggio o comunque in una vittoria risicata invece è semplice ogni volta anche quando lo dico nel video si legge eh però nella squadra nemica c'erano certi handicappati ma è ovvio è normale quando si fanno dei punteggi come quelli che ci saranno alla fine di questa partita è normale che una squadra sia fatta da persone più o meno senza braccia ecco comunque senza infierire troppo sulla squadra nemica diamo un'occhiata adesso come vedete se la campero un attimino che in realtà questo non è assolutamente camperare è una cosa intelligente perché se continuano ad arrivare nemici più che stare dietro all'unica copertura che si ha non si può fare perché se si indietreggia si sa che si muore l'unica è rimanere lì certo magari quella granata avrebbe potuto evitarla con un piccolo scatto con una piccola rasciatina tattica ma diciamo che non è sempre facile ora come vedete la squadra ha catturato qualche bandiera se un attimino ripresa ma se devo dire la verità questo è in minima parte merito del nostro giocatore perché sì sicuramente tenendo a bada molti nemici uccidendoli puoi ritardarli puoi distrarli dagli obiettivi però è pur sempre vero che in una modalità come dominio dove non esistono tempi di respawn dove non esiste tra l'altro le mappe sono pure abbastanza piccole su mv3 quindi è molto facile spawnare ed essere già dopo 5 secondi direttamente addosso ad una bandiera addosso al nemico che poco prima ti aveva ucciso ecco in una modalità come dominio dove appunto non ci sono tempi di respawn giocare semplicemente per le kill secondo me non paga molto ma questo ovviamente dipende dallo spirito del giocatore io sinceramente mi sento un attimino incompleto nel giocare modalità di obiettivi senza diciamo giocare davvero gli obiettivi cioè cercando di giocare semplicemente per le kill e sinceramente lo trovo anche un attimino da bigliacchia ecco scusatemi questo termine spero di non far arrabbiare nessuno ma pensateci bene se giocate per fare le kill perché non giocate team deathmatch? su team deathmatch ogni nemico che incontrerete avrà l'obiettivo di uccidervi mentre invece su dominio molti nemici che incontrerete non avranno l'obiettivo di uccidervi ma l'obiettivo è di prendere delle bandiere voi ignorando le bandiere certo magari non ve ne frega niente se alla fine la vostra squadra perde quindi giocate lì per fare più kill ma le kill che fate sono kill facili sono kill facili perché il nemico è concentrato su un'altra cosa e non su di te quindi capite è un attimino come giocare in easy mode ti piace vincere facile fai kill su dominio invece su team deathmatch ogni nemico che trovi appunto è focalizzato su di te non sulla bandiera e quindi è una sfida alla pari ecco secondo me cercare di fare kill facili di fare punteggioni su dominio anche perché è una modalità che dura di più magari ora kill confirmed ha tolto a questo genere di giocatori la scusa che il team deathmatch dura troppo poco ecco kill confirmed più o meno uccisione confermata scusatemi il mio inglese uccisione confermata più o meno dura come dominio e quindi ha tolto un attimino la scusa del eh ma su team deathmatch non riesco a fare punteggioni perché dura poco ecco io non lo so ditemi cosa ne pensate di questo mio moralismo da professore degli anni 80 che un attimino disdegna un po' questo stile di gioco dominio kill facile ignorando le bandiere senza mai esporsi per catturarne una so che alla fine quello che conta è divertirsi ecco ma se vi divertite a mettervi un attimino alla prova cercate di fare kill cercate di fare questi grandi punteggioni su modalità come uccisione confermata o team deathmatch piuttosto che su dominio ecco ora spero spero che nessuno si sia arrabbiato per questi miei appunto predicozze ecco comunque come vedete la partita è persa nonostante il grande punteggione un 72-6 se non erro del nostro all'uno un po' indisciplinato ecco lo ringrazio ancora una volta di questo gameplay che mi ha permesso di dire due parole su dominio su team deathmatch so che non ho analizzato molto la partita ma vedrete che il prossimo video non vi deluderà e quindi sì il link al suo canale è nella descrizione del video io vi saluto qua lasciate un bel mi piace e ciao 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 ciao